Primo maggio, festa del lavoro e dei lavoratori. All'Eco, come in tutta Italia, il focus è sulla sicurezza. Ancora troppi gli incidenti sul lavoro, ancora troppe le morti anche in itinere. All'Eco nel 2017 abbiamo avuto 3.600 infortuni sul lavoro, una leggera dominazione rispetto all'anno precedente, ma ancora troppi incidenti. Così come ci sono stati 5 morti di infortunio, di cui alcuni in itinere. Che cosa vuol dire questa cosa? Quando il lavoratore muore mentre si reca sul posto di lavoro. Ovviamente noi come sindacato ci occupiamo del tema della sicurezza non solo il primo maggio, ma a 360 gradi durante tutto l'anno, perché abbiamo una rete capillare di rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, che cercano appunto nei loro luoghi di lavoro di fare in modo che siano rispettate le norme antinfortunistiche, che ci sia una cultura della prevenzione e che siano posti in essere tutti quegli accorgimenti e quelle bonifiche anche per poter ridurre gli incidenti. Naturalmente il sindacato non riesce ad arrivare dappertutto, ci sono molti piccolissimi luoghi di lavoro dove noi non siamo presenti e in effetti questo è un grosso problema, perché tantissimi incidenti, tra l'altro infortuni magari non sono neanche denunciati, quindi noi stiamo parlando di statistica ufficiale, ma sappiamo che molto spesso magari un infortunio viene camuffato da malattia. Questo però è un tema che deve vedere anche sempre più l'impegno del sindacato, ma anche delle imprese e degli imprenditori. Infatti abbiamo dei tavoli, dei momenti di confronto nel territorio su questi temi e abbiamo anche un lavoro particolarmente sviluppato nel settore degli artigiani, dell'artigianato, attraverso la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'artigianato. Sono tutte cose che il sindacato fa cercando appunto di tenere alta l'attenzione su un tema di questa portata, perché non si può uscire di casa per andare a lavorare e in alcuni casi tragici non farvi più ritorno.